Vi aspetto ogni sabato sera su Studio 1, alle 21, per Torna a casa Alessi, dove da casa nostra, mia, di Roberto Alessi, e di mia moglie, Betta Guerreri. E troverete molti amici, ospiti, parleremo di amore, parleremo di lavoro, parleremo di società e soprattutto parleremo di persone per bene, perché Studio 1 è la televisione delle persone per bene. Grazie a tutti.